Siamo ad Arezzo, città natale di una delle personalità più forti della letteratura italiana del XVI secolo, Pietro Aretino, che contribuì a superare quella visione teologica ed etica tipica del Medioevo. Delle sue origini non sappiamo molto perché è lui a nascondercele. Sappiamo che nacque il 20 aprile del 1492 da madre cortigiana Margherita Abonci e da padre calzolaio Luca del Tura. Con il padre non ebbe mai un buon rapporto ed è per questo che non volle prendere il suo cognome ma dotare quello della città che lo ha accudito fin da bambino, ovvero Arezzo, quindi da lì il nome Pietro Aretino. Non volle quindi mai far conoscere il suo vero nome e il suo vero cognome, ma preferì farsi chiamare figlio di cortigiana anima di re, come disse in una delle sue lettere. Mi dicono che io sia figlio di cortigiana, ciò non mi torna male, ma tuttavia ho l'anima di un re. Io vivo libero, mi diverto e perciò posso chiamarmi felice. Le mie medaglie sono composte da ogni metallo e di ogni composizione. La mia effigie è posta in fronte a palagi. Si scolpisce la mia testa sopra i pettini, sopra i tondi, sulle cornici degli specchi, come quella di Alessandro, di Cesare, di Scipione. Alcuni vetri di cristallo si chiamano vase Aretini. Una razza di cavalli ha preso questo nome, perché Papa Camlente me ne ha donato uno di quella specie. Il ruscello che va in una parte della mia casa è denominato l'Aretino. Le mie donne vogliono essere chiamate Aretine, infine si dice stile Aretino. I pedanti possono morire di rabbia prima di giungere a tanto onore. Venne denominato dai suoi adulatori il divino, appellativo che gli piacque molto e decise di utilizzare, anche perché esaltava quella che era la sua grande personalità. Ad ogni modo Pietro nacque in un anno, nel 1492, che possiamo definire uno spartiacque, perché da una parte abbiamo gli stati italiani regionali, molto divisi e con organizzazioni diverse, dall'altra abbiamo degli stati europei, come il Regno di Francia e l'Impero Arburgico, molto più temibili e molto più potenti. D'altra parte, negli stati italiani si stava diffondendo una cultura cortigiana sviluppata e una cultura generale, favorita per esempio dalla diffusione dell'invenzione della stampa di Gutenberg nel 1453 e quindi un po' tutti i rami dell'arte ne beneficiarono, la scultura, l'architettura, la pittura e così fece anche Pietro Aretino che studiò a Perugia e frequentò l'università appunto a Perugia per poi trasferirsi a Roma. Si trasferisce a Roma nel 1517, dopo aver composto le sue prime poesie giovanili in stile pieterarchesco, prima a servizio di Agostino Chigi e poi del cardinale Giulio de' Medici. Nei suoi primi anni a Roma è noto soprattutto per lo scrivere Pasquinate, ovvero delle critiche fatte da lui, come da altri membri del popolo, per farsi i beffe di Papa Adriano VI, eletto successore dell'energico Leone X. Attraverso dei versi scritti alla base della statua di Pasquino che si trova in Piazza Navona a Roma, questi componimenti satirici e corrosivi gli creano non pochi problemi, al punto che è costretto a lasciare la città e a girovagare per l'Italia, fino a quando nel 1523 il suo antico signore Giulio de' Medici viene eletto Papa col nome di Clemente VII. Tornato a Roma riprende la sua attività letteraria, è di quel periodo infatti la prima sesura della cortigiana, una commedia dove gli intrecci amorosi sono ricchi di allusioni sessuali e dove la sede, la città di Roma, è in preda del caos e descritta da uno dei protagonisti come il teatro di una buffa commedia vista sotto gli occhi degli spettatori. Nello stesso periodo scrive i 16 sonneti lussuriosi, accompagnati dalle tavole dell'incisore Marco Antonio Raimondi. Queste tavole però attirano l'ira del potente vescovo Giverdi che nel 1527 lo fa accoltellare. Egli infatti nell'estate del 1525 lo fa accoltellare da un sossicario. L'Aretino sopravvive a stento e in quell'anno decide di abbandonare Roma per sempre. Nel 1527 si trasferisce nella città di Venezia nella quale resterà fino alla sua morte. Sceglie la Serenissima perché è una città che gode di una certa indipendenza, soprattutto dalla censura papale che eliterò dei problemi negli anni passati, ma soprattutto per trovare la sua indipendenza per quanto riguarda i suoi guadagni e il suo stile di vita. Infatti puntava a vivere solamente con i guadagni delle proprie opere e Venezia da questo punto era uno dei maggiori centri di diffusione di libri di stampa in Europa e in Italia. Infatti questo è anche il periodo di maggiore fioritura delle opere di Aretino. Troviamo una tipologia varia, possiamo parlare di testi religiosi, possiamo parlare di discorso, dialoghi e infine anche di critiche, critiche verso la chiesa soprattutto, ma anche verso i signori dell'Italia cinquecentesca, cosa che gli fa ottenere l'appellativo di flagello dei principi. Nonostante ciò ottiene anche delle lodi, soprattutto da grandi personaggi come Francesco I di Francia e Carlo V d'Asburgo. Muore a Venezia nel 1556, presumibilmente a causa di un colpo apoplettico. Secondo alcune fonti egli perì a caso del troppo ridere. Durante una festa infatti pare che Aretino avesse visto una scimmia che si era infilata ai suoi stivali e camminava goffamente, incespicando, schiamazzando e cadendo in continuazione. Tale spettacolo lo fece sbellicare dalle risate fino a quando gli si strappò una vena del petto, provocando un'inarrestabile emorragia. Questo episodio richiama il Morgante di Luigi Pulci, nel modo in cui trova la morte Margutte, mezzo gigante che affianca Morgante nelle sue avventure. I documenti dicono sia stato sepolto nella chiesa di San Luca, sempre a Venezia, ma dato il flusso di curiosi che li venivano per vedere la tomba, è data la fama del personaggio in un periodo non precisato tra il XVIII e il XIX secolo, la lapide fu rimossa e le ossa sepolte, forse nel piccolo giardino adiacente alla canonica. Adesso lascio la parola al nostro esperto di literatura rinascimentale, Leonard Bortolot, che ci parlerà delle sue opere. Ehi amico, sei stato proprio bravo a parlare di ragionamenti! Ora io parlerò delle sue opere minori! La cortigiana, ossia la commedia della vita di corte, fu composta a Roma nel 1525, fratello, ma rimase inedita fino al 34, l'anno in cui l'autore la rielaborò e la stampò a Venezia. La trama ruota attorno a due casi tra loro collegati, fratello. Quello del senese vaco, che è giunto a Roma per diventare un perfetto cortigiano, finisce in una caldaia bollente, per una burla ordita nei suoi confronti da Mastro Andrea e quella di Parabolano, che è ingannato dal servo rosso e dalla mezzalana Luigia. È ricevuto da Togna, moglie del geloso fornaio ercolana, invece che dell'amata Livia, fratello. È incredibile! La commedia si raccomanda non tanto per l'azione che è piuttosto lenta, quanto per la vivacità e il realismo delle scene dei dialoghi, fratello. Fratello, un'altra opera di Aretino, sono i dubbi amorosi. La raccolta comprende 31 dubbi, fratello, 31, è sbalorditivo e sono piccole composizioni nelle quali Aretino sottolinea tramite brevi storie i problemi di mariti, donne, prostituti e di lussuriosi, che riguardano solo il sesso, fratello, solo il sesso. In seguito alla stesura di ciascun dubbio, l'Aretino inserisce una risoluzione alla quale aggiunge delle massime e delle morali su come risolvere le varie situazioni, amico. Oltre a questa raccolta, sempre nel sedicesimo secolo, ne fu pubblicato un seguente, intitolata Altri dubbi amorosi, fratello, hai capito? Altri dubbi amorosi, che praticamente significa alcuni altri dubbi amorosi. Fratello, Aretino scrive anche i sonetti lussuriosi, che sono una raccolta sponderotico, risalenti al 1526, amico. L'opera consiste in due libri, che raccolgono rispettivamente 16 e 13 composizioni, fratello. I sonetti lussuriosi, in due libri, sono sonetti ispirati alle incisioni, quasi pornografiche, amico, di Marco Antonio Raimondi, sui disegni di Giulio Romano. Una raccolta di 16 immagini, che ritraggono posizioni sessuali, per il quale Aretino composi i sonetti per accompagnare i lavori, amico. I modi uscirono nel 1527, presentavano sia i testi poetici che le incisioni, fratello. L'opera fu censurata nello stato pontificio e costò all'incisore la reclusione, fratello. Nei sonetti lussuriosi, l'autore non fa uso sapiente della metrica, amico. La struttura dell'endecasilabo può essere messa a rischio, così come il ritmo. I personaggi che vivono situazioni sono anziani, giovani, divinità come Marte, Venere, Giove. Il poeta stesso è dannatamente incredibile, fratello. Nelle poesie possiamo incontrare molte parti dialogate. In conclusione, si tratta di composizioni pregevoli, che evidenziano lo sforzo del poeta di creare situazioni aventi la probabilità descrittiva. Ma spesso capita che i sonetti si inceppino. L'autore ripropone le stesse immagini, le stesse figure, rendendo sterile l'ispirazione e la resa visiva, fratello. Fratello, non ha finito, diamine. Manca l'Atalanta, una commedia divisa in cinque atti di ispirazione terenziale e plautina, fratello. Fu commissionata da retino dalla compagnia veneziana di Sempiterni, amico, e fu rappresentata a Venezia nel 1542, amico, 1542, con le scenografie del Vasari. La scena si svolge a Roma e narra la storia di una moderna taide. Atalanta corteggiata da quattro uomini di diversa età, quattro, amico, quattro, e condizione sociale diversa. Il giovane Orfinio, il vecchio Messer Vergolo, che è veneziano, amico, veneziano, l'anziano Tinca, napoletano e Armileo, che è romano, che finge di amarla per frequentare la sua casa, dove in realtà vive la schiava Stellina, amico, la fanciulla di cui è realmente innamorato. Dopo rapimenti, fughe, prigioni, travestimenti e un'annizione finale. Atalanta concederà il suo amore disinteressato al giovane Orfinio, fratello incredibile.